I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali proposto da Don Fabio Rosini, biblista e presentato da Monia Parente. Primo incontro, la prudenza, il cocchiere delle virtù. Un caro saluto a tutti voi amicini ascolto e benvenuto a Don Fabio Rosini che è con me in studio. Bentrovati. Don Fabio, primo incontro dedicato alle virtù cardinali. Partiamo dalla definizione. Cosa significa cardinali? Ecco, dalla parola cardine, perno. Noi vediamo i cardinali romani perché sono i cardinali, perché erano i sacerdoti che a Roma erano titolari delle chiese cardine, delle chiese perno. Bisognava eleggere il papa, al momento non poteva essere tutto il clero che lo eleggeva. Erano solamente alcuni sacerdoti quelli che erano incaricati delle chiese più importanti, le chiese cardine. Per questo sono i cardinali. Infatti ogni cardinale oggi, anche se magari rappresenta una nazione, è legato a una chiesa romana. È una chiesa che viene ritenuta in qualche maniera importante. Ecco, le virtù cardinali sono le virtù cardine. Girano. Infatti, Sant'Omaso le chiama anche virtù naturali. Ovvero sia sono una dotazione di bordo che fanno girare bene la nostra vita. Questo tipo di virtù sono quel tipo di dotazione che noi abbiamo e che, con la grazia, con la parola di Dio, crescono e diventano splendide, ma che normalmente, umanamente, ogni uomo ha, che può esercitare bene o male, però ce l'ha. Deve semplicemente, come dire, sfruttarlo e assecondare questa virtù secondo il bene più alto. L'origine di questo termine è nella idea del perno che fa girare, per esempio, una porta, che fa girare un oggetto. Appunto, queste virtù fanno girare la vita, fanno andare bene la vita. Sono virtù che fanno stare bene, che fanno vivere bene tutte le cose. Sono assolutamente necessarie, nel loro esercizio, per vivere bene qualunque missione, qualunque realtà, qualunque lavoro, qualunque giornata, non si può vivere senza queste quattro virtù, o meglio, senza esercitare bene queste quattro virtù, perché vedremo che noi possiamo avere della cattiva metodologia nell'approccio a queste virtù. E dopo questa introduzione iniziamo a conoscere la protagonista del nostro incontro, la virtù della prudenza. Innanzitutto, perché comunemente viene elencata per prima? Perché la prudenza è quel tipo di virtù che sarà necessaria alle altre tre, ovvero sia è detta, definita, auriga virtutum, cioè cocchiere delle virtù, conduce le altre virtù al loro compimento. Allora, perché di fronte ad una persona prudente spesso siamo diffidenti, temiamo che sia semplicemente la maschera di un'intenzione poi diversa? Sì, infatti, quello che sarà piuttosto interessante di queste trasmissioni sulle virtù cardinali sarà risdoganarle rispetto a una mistificazione che hanno subito. Una certa mediocrità dall'interno e una certa cattiveria dall'esterno hanno fatto sì che la prudenza sia identificata con qualcosa di un po' viscido, un po' poco presentabile. Noi crediamo che i sinonimi di prudenza siano cautela, circospezione, diplomazia, se non proprio doppiezza o addirittura dissimulazione, una forma di timidezza o di paura. Da una parte la prudenza somiglia alla viscita abilità di chi vuole subdolamente far andare le cose a modo suo. D'altra parte sembra la virtù dei deboli, dei paurosi. Quindi il prudente sembra il contrario dell'audace, un po' ipocrita, un po' fifone. Il prudente è quello che segue i consigli della mamma, va piano in macchina, si mette la maglia di lana e non osa perché non sta bene. Ecco, questo con la prudenza non c'entra niente. Noi stiamo parlando di una virtù bella dell'uomo. È una virtù cardinale che è l'arte di sapersi prendere quello che vale di più. La prudenza ci fa raggiungere gli obiettivi nella vita, quelli che valgono. La prudenza buona sarà orientata ai obiettivi più sani e luminosi, la prudenza cattiva a quelli pessimi. Infatti il prudente è pure un ladro che riesce a rubare la riflutiva, a prendere quello che vuole prendere. È molto prudente quando fa il ladro, il problema è che è tutto sbagliato, è tutto l'atto che è sbagliato. Infatti può essere prudente come un serpente perché il serpente che non è proprio un'immagine positiva nella scrittura è quello che però sa raggiungere l'obiettivo. Bisognerebbe approfondire questa definizione di prudente come un serpente e non ne abbiamo qui purtroppo il tempo. Però il problema è arrivare allo scopo. Quando questa virtù prende la strada buona è fenomenale, meravigliosa e ci va a vivere molto bene. Dopo aver visto cosa non è la prudenza, approfondiamo la definizione di questa virtù. Allora, è la capacità di disporre la ragione pratica a discernere in ogni circostanza il nostro vero bene e a scegliere i mezzi adeguati per attuarlo. Sto leggendo dal Catechismo della Chiesa Cattolica. In effetti la parola greca che noi traduciamo con prudente ha un significato più di avveduto, un sapiente, uno che ha gli occhi aperti. L'imprudente è uno che per esempio cerca il bene dove non c'è, è un po' cieco, parla quando gli conviene star zitto, non si rende conto di quello che creerà con una parola fuori luogo, oppure sta zitto quando dovrebbe parlare, ride a sproposito, crede a delle cose che sono assolutamente inaccettabili, eppure è prudente a modo suo, crede che questa sia la strada per stare bene. Nel Vangelo il prudente chi è? Per esempio prudenti sono le cinque vergini sagge, il termine è prudente, perché? Perché hanno preso olio equivollente all'importanza dello scopo, cioè era un matrimonio, bisognava aspettare, bisognava aspettare quanto? Meglio prendere tanto olio con noi. E queste sono quelle che sanno valutare l'importanza dell'atto. Prudente è l'uomo che costruisce la sua casa sulla roccia, cioè non costruisce la casa per la situazione di quiete, ma calcola le possibili crisi che ci stanno, così uno costruisce un matrimonio, non in vista di quando tutto va bene, ma in vista di quando le cose sono un po' difficili, allora lo costruisce da prudente. Prudente è l'amministratore che dà il cibo al momento giusto, questo è il prudente. Allora, noi dobbiamo capire esattamente la parola prudenza cosa vuol dire. È una parola che viene dal latino prudente, da prudentem, accusativo di prudence, contratto da provvidence, perché la v diventa u nella contrazione delle lingue, e praticamente il prudente è il provvidente, cioè colui che vede prima provvidere, colui che guarda quello che c'è dopo, guarda oltre le cose. Insomma, fondamentalmente la prudenza è quell'attitudine per cui una persona fissa lo sguardo nell'esito degli atti, nell'esito delle cose. È qualcuno che appunto, noi vediamo una cosa di questo genere per esempio in San Filippo Neri. San Filippo Neri è un uomo che dice preferisco il paradiso e quando è di fronte agli onori che gli vengono offerti, li rifiuta perché capisce che quella non è la strada per il paradiso per lui. C'è San Francesco, d'altro canto, che ha un motto, tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto, cioè lui ha capito dove Dio lo vuole portare e allora capisce che passare per una strada di tribolazione può essere buono. Infatti il prudente è colui che valuta le cose sulla base del scopo, della meta, cioè si chiede nei singoli momenti sì, ma questo dove mi porta? Il viaggio, se è fatto in maniera tale che passo per posti meravigliosi, ma andrò a sfracellarmi alla fine, beh non è che sia un gran viaggio e a me tutti questi posti meravigliosi non è che me ne importi molto, preferirei evitarli. Se il viaggio è squallido, orribile, ma mi porta nel posto più bello del mondo, facciamolo questo viaggio, ma chi se ne importa che sia squallido, tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. Il prudente è colui che inizia a far girare i propri atti in funzione di ciò che veramente resta nelle sue mani. Allora Don Fabio, consigli pratici per far funzionare la virtù della prudenza, per attivarla, visto che come dicevi fa parte della nostra dotazione di bordo, è una virtù che tutti quanti abbiamo. Ecco, allora noi dobbiamo a questo punto spiegarla in maniera semplice, il nostro maestro è fondamentalmente San Tommaso, che ha parlato delle virtù cardinali in maniera bellissima, meravigliosa e noi lo sfruttiamo. Allora, la prudenza quindi è molto pratica, il suo compito è dirigere e quindi intima, comanda nelle situazioni pratiche. Chi è che perde la prudenza? Chi non vuole obbedire, chi non vuole adeguare i propri atti e chi vuole essere spontaneo a tutti i costi, la spontaneità è un bel valore, ma deve essere condizionato al risultato che ottiene, perché si può essere spontanei a sproposito. Quindi, in ordine a un fine, che già umanamente è il fine del vero bene e poi con il dono della redenzione diventa il fine soprannaturale, proprio arrivare al paradiso, ecco, si occupa delle scelte e dei giusti mezzi da prendere nelle scelte per arrivare lì, per arrivare proprio alla luce. È indispensabile. Prima di tutto, per evitare il peccato, per evitare le stupidaggini della nostra vita, infatti, illumina sulle conseguenze. È quella santa domanda per cui uno si fa, ma questo dove mi porta? Dove vado a parare se io faccio questo atto? Adesso si va bene, adesso faccio questo scatto di rabbia, ma che ci sarà dopo? Il silenzio, la rottura del rapporto? Ma mi conviene? Ecco, lì la prudenza ti sta funzionando un po'. Bisogna vedere se poi, siccome lei ordina, se tu obbedisci. Ed è indispensabile per crescere nella vita spirituale, per crescere nella vita anche umana, per essere uomini e donne dal tratto umano alto, nobile. Infatti, illumina la meta. Quindi, evita gli eccessi sia nel troppo che nel poco. E questo di evitare gli eccessi è molto importante, perché non si tratta qui di essere così, con freno a mano, sempre tirato esistenzialmente. No, si tratta di non andare a qualcosa che mi brucia la vita o che me la spegne, prima ancora che abbia un suo fuoco. Ed è necessario e indispensabile per compiere la propria missione. Cosa tacere, cosa affermare, quando aspettare, quando affrettarsi. La prima cosa che mi devo chiedere è, infine, otterrò il vero fine? Otterrò il bene? Il bene per me e per l'altro? Uno parla, dice la verità a una persona. Benissimo, hai detto la verità. Nessuno ti può contestare? No, io invece ti contesto, perché hai detto la verità al momento sbagliato. Questa persona non ti stava ascoltando, non era in grado di ascoltarti, era esasperata. Era troppo stanca, era troppo arrabbiata, era troppo confusa, troppo addolorata per affrontare questa cosa qui. Ci sono persone che dicono agli altri cose molto giuste, ma quando gli altri ancora non hanno la forza per accoglierle. O quando è troppo tardi, me le dici, adesso ti ascolto, me le avessi dette ieri, quando ti prendevi un pochino più di coraggio per parlarmi, ma avresti aiutato. Adesso ormai la verità è fatta, non mi salvo più. Ecco, questa cosa qui vuol dire che uno mira qualcosa che è il vero bene, che cosa veramente fare o non fare. O, ma com'è fatta la prudenza in sé, cioè di cosa è composta. Prima di tutto, è fatta di memoria. Uno, si deve ricordare le stupitaggini fatte e le cose che ha azzeccato. Assolutamente sì, se no uno non ha un bagaglio, comincia ogni giorno da capo. Secondo, è fatta di lettura attenta del presente, cioè di questo guardare le cose. Per cui capiamo, iniziamo a capire poi, lo dobbiamo dire sempre meglio, è fatta di calma. La fretta e la prudenza non vanno d'accordo, non perché la prudenza torna a essere quella cosa un po' da godardi che pensavamo prima. No, perché nella fretta normalmente non si considera tutto, per cui uno deve considerare tutto, deve farle con calma le proprie opzioni. Quindi, chiede docilità ad apprendere. Uno non è prudente se pensa di aver già capito tutto, deve essere docilità ad apprendere qualcosa di nuovo e ancora. Una cosa che si chiama sagacità, uno è sagace quando sa fare che cosa? Quando, in mancanza di altri consigli, si risolve a decidere. E si risolve a decidere secondo un senso, che è un senso più profondo, il contatto con la parte più profonda di sé. Sì, la sagacità è un contatto anche con la parte più autentica del proprio cuore. Ancora, la prudenza è fatta di ragione, ovvero, come stavamo dicendo, di riflessione, di calma. Molto spesso non vale la pena mai di prendere una decisione prima di averci dormito sopra a una decisione. Meglio aspettare. Le decisioni di impulso non portano normalmente a niente di buono. se portano qualcosa di buono è per caso, cioè, era meglio evitare. È logicamente impastata di uno sguardo che guarda oltre, l'abbiamo detto molte volte. È fatta di circospezione, che vuol dire circospezione che uno fa un'ispezione dell'ambiente circostante, cioè guarda intorno cosa c'è. Ma che cosa c'è intorno? Perché le cose prese per se stesse, fuori contesto, non sono mai lette bene. E poi è fatta di cautela. Che cosa vuol dire? Considerare che c'è un nemico, considerare che ci sono degli impedimenti, che le cose non sono lineari, che non esiste il moto perpetuo perché esiste l'attrito, ovvero esiste qualcosa che ci impedisce di vivere bene quello che abbiamo pensato di fare. Quindi considera le opposizioni. Non è idealista, egheliano, le cose sono come ne ho pensate, no? Ci saranno delle cose che non ho calcolato e ci sono delle cose che già so, me le devo ricordare, che sono i nemici interiori ed esteriori. E c'è il male che mi si oppone, sempre e comunque. Due competenze, quella logicamente personale e quella sociale. E non sono in contraddizione, perché il bene è uno solo. Il bene è uno solo. E non è vero che quando faccio il vero bene personale sto disturbando il bene sociale o quando sto facendo il vero bene sociale sto ledendo il bene personale. Queste due cose hanno sempre il punto di luce in cui c'è la connessione. Il sacrificio può essere il più grande bene personale. Il momento in cui per il bene sociale io mi sacrifico, come anche il sottrarmi al sacrificio perché penso che questo bene sociale non valga quanto la mia dignità di uomo, di persona. E in quel momento logicamente mi deve guidare un punto di riferimento che è il paradiso, che è l'arrivare allo scopo vero. La prudenza viene attivata dal buon consiglio, cioè un ascolto pacato. Dal buon senso pratico, cioè la memoria dell'ordinarietà. Normalmente le cose come vanno? E non vanno, dimenticate queste cose qua. C'è un ordinario, le cose hanno un loro andare che normalmente viene rispettato. Queste cose così che sono tutte un po' eccezionali. Le eccezioni, insomma, bisogna un po' saperle riconoscere come quello che sono. Eccezioni, per cui l'ordinario serve sempre molto bene come punto di riferimento. Normalmente queste cose non succedono. Allora scusami, ma prima che io vada per una strada straordinaria devo avere dei motivi molto forti. E ancora, è fatto di giudizio perspicace. Giudizio perspicace che cos'è? È uno che ha una visione perspicace, cioè che va oltre a valori alti, a valori di grande. Cioè guarda cose molto fini. Cos'è il contrario della prudenza? Beh, è facile. L'imprudenza, da una parte, cioè giocarsi l'obiettivo per un momento antecedente, sopravvalutando una fase antecedente, e la negligenza, che è sottovalutare l'obiettivo. Una cosa molto importante è quando la prudenza viene scimmiottata. Quando la prudenza diventa semplicemente prudenza della carne, cioè il fine è il solo piacere. E uno crede di star guadagnando chissà che cosa, ma sta guadagnando qualcosa di molto labile. E la prudenza è scimmiottata, è imbruttita, quando diventa astuzia, che non evita le vie false, l'inganno, per poter raggiungere l'obiettivo. A quel punto non è più prudenza. A quel punto si chiama astuzia cattiva. Come anche la scimmiottatura della prudenza è un'eccessiva sollecitudine. Per cose temporali, ma anche per cose spirituali, eccessiva sollecitudine. Quando uno le deve difendere un po' troppo, c'è qualcosa che non è pacifico, c'è qualcosa che non è prudente, non mira veramente al paradiso, non parla di strada del paradiso qualcosa che è un po' troppo aggressivo, un po' troppo violento, anche quando l'argomento è sacrosanto. Comunque si impasta di quella pacatezza che è la certezza di dove io vado a parare. E sono davvero tanti i consigli pratici, i concetti che hai elencato. Adesso ricapitoliamoli tutti, magari chi può prenda anche qualche appunto, così è facilitato poi nella comprensione e anche nel ricordarli per metterli in pratica. Allora, come si sviluppa la prudenza nei principianti? Riflettendo, considerando i pro e i contro, perseverando nelle cose che si sanno per buono. Una volta che hai capito che una cosa è buona, è non cambiare idea, ti ette la stretta. Non essere disposto a cambiare un'acquisizione sana della tua vita. Ancora, vigilando contro quelle scimmiottature, cioè la prudenza della carne, l'astuzia che guarda i mezzi e l'eccessiva sollecitudine quando sei un po' troppo attaccato alle cose. Poi, preferendo la semplicità alla complicazione, ma quando uno preferisce le vie più semplici, ha le vie un po' troppo e bisogna spiegarle un po' troppo. Di prudenza mi sa che non ce n'è così tanta. E ancora vivendo giorno per giorno, badando al rapporto con Dio e facendosi prendere poco dalle ansie di scopi secondi, riferendosi quindi al fine e cristallizzando quindi i punti intrattabili. Uno diventa radicalmente prudente quando inizia a cristallizzare nella propria intelligenza quelle cose. Questo non lo metto più in discussione. Questo non è un bene trattabile. Questa cosa nella mia vita io non la tocco più. Ho bisogno di questo tipo di ordine, ho bisogno di questo tipo di riferimento, ho bisogno di questo tempo di preghiera, ho bisogno di questo tempo di riferimento alle persone che mi sanno insegnare cose buone e via dicendo. Ecco, queste cose fanno camminare pure gli esperti. Dicevo che questi consigli che ho appena dato sono per i principianti. Gli esperti elevano la loro prudenza perché è sempre di più il loro rapporto con Dio. Sempre di più è ciò che in pasta parla del loro rapporto con il Signore e praticando una certa mortificazione delle distrazioni. Sono cose che mi distraggono dalle cose più grandi e io le devo mortificare quelle cose lì. Sono perdite di tempo. E ancora, assecondando le interne ispirazioni di Dio, cioè il prudente inizia piano piano a conoscere una strada in cui Dio con costanza parla al suo cuore e torna con una voce che lui sa riconoscere, semplice e osservando un po' tutte le cose che abbiamo detto che sono un po' dante, forse un po' troppe per una semplice trasmissione, ecco, ha imparato a camminare bene. Ecco, uno che vive così vive bene, sta bene, è contento. E siamo arrivati al termine del nostro incontro, grazie a tutti voi per averci seguito e grazie naturalmente a te Don Fabio per questa catechesi dedicata alla virtù della prudenza. Grazie a voi. I cardini della vita buona Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali proposto da Don Fabio Rosini, biblista e presentato da Monia Parente Primo incontro La prudenza Il cocchiere delle virtù La prudenza La prudenza La prudenza La prudenza La prudenza Grazie a tutti.